Benvenuti in The Walking Dead Io ho iniziato questo gioco due anni fa forse E' un gioco molto bello Ma come suggerisce il titolo della live Emozioni a mille proprio Cioè veramente ti prende dentro L'ho piantato perché ero stufo di tutte queste emozioni No in realtà perché mi ero stufato e ho giocato ad altro Ma ho deciso di riprenderlo Anche perché c'è anche il secondo Io dovrei essere arrivato Non mi ricordo più che episodio Episodio 4 eccolo qua Guarda come potete vedere L'ultima volta che ci ho giocato è il 4 giugno 2015 Allora gioca Non mi ricordo i tasti Non mi ricordo niente Mi ricordo che dalle fogne dobbiamo entrare in questa base di nemici Ecco esatto qua Mentre sopra di noi Ricordate il piano Vediamo quello che ci serve E c'è la figlia Allora qui era tutto mouse Non mi ricordo assolutamente nulla Non mi ricordo assolutamente nulla No allora Cazzo non mi ricordo i tasti Fatemi dare un'occhiata perché no Comandi Allora abbiamo Muoversi il tipico Wast Opzioni Scegli uno Eh? Scegli uno Scegli Ah le opzioni di dialogo con questi Il mouse Azioni Scorrimento dialoghi Iniziamo Tra l'altro io avevo scelto di portarmi dietro la bambina Perché non volevo lasciarla lì da sola E quindi le emozioni saranno ancora più a mille perché io mi sono affezionato alla bambina Apri guarda Apri guarda Guarda ok Devo usare la Ok quindi apri Ok Ok Vediamo un po' Esco Così Proprio Come se non ci fossero da mani Ok Ok Vediamo un po' Tutti Devono essere guardi Patrullando Che? Promette male È solo strano Eh Esatto Perfetto Quindi Stiamo eliminando senza far rumore Voi aspettate il nostro segnale Poi raggiungete Suntesi Facciamo silenzio Non speriamo Dietro di te Ok Oh cazzo Mamma mia Mamma mia Mamma mia Mamma mia Ok Quindi adesso vado dietro di lui E lo faccio fuori Vai E ti muovi Ma che cazzo Ah ma cazzo Bastardo Bastardo Zombie di merda Ok Morto Al primo colpo Figa Sono tutti zombie Sembrerebbe Un errante? Allora Allora le cose sono due O gli stronzi ci hanno teso una trappola O sono diventati tutti zombie A mio parere Possono essere solo queste due Le opzioni Ok Ok Noi siamo dentro In questa casa Vediamo un po' Aia E che cazzo Bastava Dai povera bambina E spaventata Mamma mia No non ho capito cosa ma Sicuramente Eh mi dispiace Non ho capito cosa dovevo scrivere Devo stare più attento Siamo in questo posto Quello che succede sempre Siamo in una fine Vincono sempre i morti Siamo davvero spacciati No Questo è bene Eh su questa sono d'accordo in realtà Eh su questa sono d'accordo in realtà Il plan hasn't changed Il plan hasn't changed Every time walker show up Il plan changes Non ho capito Non ho capito No Vuoi fare un account O vuoi trovare quello che bisogna E farlo d'accordo Quindi Quindi Pianta la gufo di merda Per l'amor di dio Mi devo Devo rimanere calmo Concentrato Ok Mi cago sotto Ma perché c'è una X disegnata lì scusa Non è che mi piaccia tanto Dai Vediamo un po' Già questa musichetta Beh? Beh? Armori Beh Il disegnino c'entra con un'armeria Comunque ha messa molto di tracola Non so voi ragazzi Eh è la bimba? Ah sta con noi Ma da solo Con la bimba Ah beh È logico Oh ok Allora vediamo un po' Però Forse guarda Continuo a pensare che ho fatto bene a portarmi dietro la bimba Perché Ho la sensazione che gli stronzi che erano qua Stanno andando a prendere il nostro campo base Tra l'altro sai che non ricordo proprio Forse avevo lasciato qualcuno il campo base Ma era uno che non mi piaceva tanto Purtroppo non mi ricordo queste cose qua Però Non mi piaceva lasciare da sola la bambina lì Quindi la preferivo al sicuro con me Anche se andavamo in una base nemica Tanto al sicuro non è Campana Campana Che cazzo Ah vabbè Quanta roba da vedere I sacchiotti Ma se erano bambule era peggio Vabbè anche perché Anche se ci fosse Che cosa vuoi fare Allora qua dovevo assistire l'armory Con quel tizio parliamo dopo Ma scusa eh Ma io non dovevo andare via di qua La soluzione finale di Crawford Guardato lì di pasta Così A caso Non credo niente di Credo niente di buono eh Una radiolina No Scusa l'avevo già visto questo E quindi Alla fine Alla fine fine Non c'è moltissimo da fare Qua avevo già guardato Forse si Ok Qua Allora Questa è la mappetta del luogo Por Guarda Scusa l'altra parte del tappoggio Questa è la fuori sulle scale E sarà sicuramente piena di zombacci Qua Mi fermeria Se mi andiamo a trovare la medicina La qua qua Ah ma aspetta Forse sì C'era una persona ferita Nella nostra base Secondo me Quando torniamo Non la troviamo più Ho questa sensazione Però prima volevo parlare Con i nostri due amici Prima con la piccola Mi mette sempre Mi mette sempre Mi mette sempre Non c'è male Eh beh sì Siamo sul vago Tristezza assoluta Va bene Basta Se no mi deprimo Già all'inizio Non va bene Andiamo da lui Vediamo cosa ha da dirmi Molto utile Cioè al suo lavoro Di cacciarci nei guai C'è una cosa che mi puoi aiutare C'è una cosa che mi tormenta Ho avuto la tua opinione Oh cazzo Dimmi È Kenny Da quando ho avuto Da quando ho avuto Ho avuto Ho imparato Un po' meglio E non ho avuto Senza Non so Sto divorando Ancora questa storia È mia È mia È mia È mia È mia È mia Se non mi Se non avessi Non avessi Soprattutto nel motore Soprattutto 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 Ehm... Oh cazzo... Oh cazzo... Ecco, Bear. Non ho tempo per questo. Non lo capisci, Lee. Cosa ho dovuto fare quando ha parlato di Caccia e Ducca? Proprio riuscire e riuscire che non fosse la mia scuola. Non posso farlo mai più. Vanno un momento quando è pronto per ascoltarlo. Ma non è ora. Non ancora. Scusi. 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 Usciamo. Oh merda. Si. Allora. Principles... Principles of Crawford. Eh, vabbè ma traducivano, vabbè che sono in inglese. Però... All limitless in medical condition. Disclose to the conceal. Children... Children. Va bene, lasciamo stare. Qua? Cosa c'è scritto? Welcome to Crawford. Scusi. Che gestivo questo posto. Scusi. No, fatemi vedere una roba. Scusi. Non mi sembra... Non mi sembra... Non mi sembrava un personaggio di Walking Dead. Perché qui... Non so se lo sapete, ma... Troviamo veri personaggi di Walking Dead. Io sono... A me piace molto la serie. Sto finendo l'ultima che hanno fatto in tv. Cioè la sesta. Mi mancano le ultime puntate. E secondo me la trovo molto bella. Molto emozionante. E per quello che... Giocare a questo gioco mi emoziona un casino. Perché... Mi ricorda... Tanto la serie. Ed è veramente uguale alla serie. Solo che qui... Oh cazzo. Aspettate che qua... Sento troppi... Versi strani. E non... E non va bene. Eh ma fa culo! Ma mori! Ma porca... Ma tua sorella! Tua sorella! Maledetta! Mi sono ammazzato! Mi sono! Porca! Ma poi... Cioè... Non può uscire così... All'improvviso. E gridare... Vieni qua! Minchia! Ma ammazzo! Mi viene un infarto a me! Vabbè... Che cos'è sta roba? Da tanto tempo che ho usato una... Ho usato una così piccola. Ma di che? Ah ma... Che cazzo è? Scusate! La fontanella! La frase un po' ambigua hai detto zio... Però vabbè... Allora lì c'è il bagno... Lì c'è il bagno... Ma che sta telecamera... Ah... E qua esco dall'altra parte... No... Direi che devi aspettare andare lì... Facciamo un giratto in bagno... Vediamo se c'è qualcosa di interessante... Ma vabbè... Ma vabbè... Vabbè... Eh... Magari... Sa mai... Che cazzo è successo qui? Zombie sempre più vicini... Ma scusa eh... Ma da qua non è... Ma è da dove sono arrivato? No... Ah no... Hanno attaccato le stesse cose... Se lo vedo bene... Qui c'è sempre il solito... Sì basta... Basta... Sì sì ho capito... Sì... Ok... Allora intanto... Ah... Ma ti puoi arrampicare su lì? Eh... Può essere una buona idea andare in alto sai... Vediamo se c'è qualcosa qui dentro... Non facciamo scherzi... Ok... Peccato che non conosco la combinazione... Vabbè... Buttala giù... Cazzo... Vabbè... C'è una tempesta fu... Ah... Ma sono qui gli altri... Quindi aspettiamo un attimo... A me piace esplorare tutto prima di andare nei punti che secondo me sono chiave... E quello è un punto chiave... Allora di qua... Che c'è? L'uscita... No ok... Non usciamo qua da soli... Direi di no... Minchia... Troppi... Troppi versi di zombie... Adesso no... Vorrei provare a salire... Sull'albero... Cazzo è qua... Ok... Vediamo un po'... Questo posto sicuramente ha un grande damage... Mmm... Ok... Va bene... Andiamo dai nostri amici di... No... Erano di là... Ho sbagliato... Come sono quasi dentro... Sono lì a guardar fuori... Ma che stai a dire... Vabbè... È appunto... È appunto... È appunto... In questo modo... Comunque la telecamera è fastidiosissima... Merda... Bastardo... Che spavento... Non mi ricordavo che faceva cagare sotto così sto gioco in realtà... Vedi di non cadere... Mmm... Questa visuale mi ricorda... I giochi di una volta... Ok... Ah beh... Scusami qua dovevo cambiare... Dovevo cambiare l'azione... Era così... Prova a tirarla su... Te pareva che fosse bloccata... Mmm... Sti gran cazzi... Qua è pieno di zombacci... Qua è pieno di zombacci... Aia... Mamma mia... Mamma mia... Mamma mia... Mamma mia... Mamma mia... Che cazzo... È... 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 Che cazzo sta facendo... Vabbè... Ma lasciala sfogare... No... Lasciala sfogare... Che cazzo sta facendo... Ma... La porta di garage è fermata... Non può riuscire... Non c'è problema... Guarda cosa ho trovato... Oh sì... Merda... Come on... Uh... Eh sì... No... Come Q... Cazzo... C'erano altre azioni da usare... Allora... Su... Su... Eccone... Eh... Te pareva che ce ne fosse un altro... Ok... Ce l'abbiamo fatta... Ce l'abbiamo fatta... Ma da qui non esci più... E qui non entri nessuno... Ok...